Buonasera a tutti quanti, siamo qui di nuovo in Bridge of Light per un'altra diretta di Crime Risponde. Questa sera affronteremo un tema estremamente importante, ovvero perché più evolviamo e più è difficile mantenere i rapporti con le persone che ci circondano perché è difficile continuare a portare avanti dei rapporti che abbiamo da lungo tempo. Quindi questa sera affronteremo questa tematica che è vissuta per la stragrande maggioranza delle persone come un problema. Intanto saluto le persone che stanno entrando, ciao Paola, ciao Sabrina, ciao Carla, ciao Betti, state arrivando numerosi, iniziamo tra un po' a parlare di questa tematica, ciao Marco, ciao Mariana, un po' alla volta state entrando, buonasera Elisa, buonasera Daniela, buonasera Daniela stavolta Romersa, quanto è Daniele, ciao Mariangela, buonasera Katia, che piacere averti con noi, Katia San, buonasera Mariangela e Mariana, ciao Calogero, ben ritrovato, buona serata, bene bene, aspetto che arriviate un pochino, ciao Filippo, quanto tempo, mi fa piacere molto che sei qua con noi, carissimo Domenico, ciao, sono molto contento che siate qua, ciao Stefania, vediamo un po' se mi fa vedere un po' di altre persone che stanno entrando, vediamo se qua riesco ad allargare un po', Anna Maria, buonasera, Alessandra, buonasera, Francesca, buonasera, Mirella, buonasera, Orsola, buonasera, buonasera tutti quanti voi, bene, allora, ci siamo quasi, possiamo quasi incominciare, tutti quanti noi, buonasera, buonasera Arianna, buonasera, buonasera Angela Ventura, Silvia, buonasera, Silvia Jan, o Jan, ma credo che si dica Jan anche se ce l'hai lunga, buonasera a tutti quanti voi, ciao Sandra, ciao Serenella, oh che onore Serenella, grazie di essere qui con noi, bene, allora, visto che siamo già un numero di persone, direi che possiamo entrare a parlare di questa tematica e poi ovviamente dopo che io avrò chiacchierato un po', vi lascerò spazio le vostre domande, sia su quello che voi avete sentito in questa conferenza, sia su altre tematiche, siccome questa rubrica si chiama comunque sempre Crayon risponde, sapete che poi le risposte le avrete direttamente da Crayon, quindi cominciamo ad affrontare questo tema, come avete visto nei post che ho fatto per lanciare la diretta di questa sera, ho ripreso una fotografia, non mi ricordo neanche più da chi l'ho presa, ma l'ho condivisa prima sul mio profilo e poi ho deciso di fare del contenuto di questa foto la diretta di questa sera e questa foto diceva, sicuramente tutti quanti l'avrete vista, cioè che più andiamo avanti nell'evoluzione, più ci diventa difficile rapportarsi con gli altri e devo dire che ho ottenuto solamente in questo gruppo più di 200 like a questo post, una marea di commenti e questo anche in altre situazioni dove ho postato questo c'è stato veramente quasi un plebiscito e vi dico che sinceramente neanche io, quando ho condiviso questo post pensavo che la tematica fosse così viva, fosse così interessante e lo dimostra anche il fatto che nel giro di 7 minuti voi siete i più di 50 persone che state ascoltando, quindi vuol dire che veramente questa è una tematica interessante. Qualcuno ha scritto nei vari commenti del lancio del post perché le persone che fanno evoluzione non vogliono più rapportarsi con gli altri perché pensano di creare un'elite e invece io penso che esattamente il contrario, cioè che le persone come me, come voi che siete l'ascolto nel momento in cui facciamo evoluzione vorremmo assolutamente aprire a tutti quanti il nostro cammino, il nostro percorso indipendentemente da quello che ciascuno di noi fa perché innanzitutto in molti casi noi per primi cominciamo a sperimentare dei cambiamenti e quindi vorremmo che tutto il mondo sembra noi cambiasse. Però quando va bene cominciano a guardarti in maniera anche i tuoi familiari perché gli amici, i parenti, sì diciamo uno fa fatica a perderli ma ancora peggio quando questa cosa succede in casa, cioè ti guardano come se fosse un marziano, un extraterrestre, oddio che cosa sta pensando, qualcuno dirà entrati in una setta, voi ditegli no che non siete entrati in una setta, siete entrati in una otta, quindi almeno setta, otta, nove così almeno si mettono il cuore in pace. Perché non sembra possibile che una persona che fino a qualche giorno prima viveva una vita normale e poi improvvisamente si sia aperto alle tematiche dell'evoluzione della spiritualità. Quindi diciamo che questa è la prima risposta. Quello che succede è che noi non corrispondiamo più al modello mentale, all'idea che gli altri si sono fatti di noi perché nei rapporti umani la stragrande maggioranza dei rapporti umani non è basata sul percepire veramente l'altro ma è basato sulla impressione e sull'idea che io ho dell'altra persona. Quindi nel momento in cui voi cominciate a fare un percorso di evoluzione spirituale, cominciate a fare un lavoro di apertura umana, di evoluzione umana, ecco che il primo tassello che va fuori posto nella mente degli altri non corrispondi più alla persona che io conosco, che io conoscevo. E invece di essere persone intelligenti che si fanno delle domande o che magari attraverso il vostro cambiamento personale capiscono che forse anche loro possono cambiare, quindi invece di vivere questo come un'opportunità di cambiamento la vivono come una problematica. Su questo ci sono anche degli aspetti carmici che poi tra qualche minuto prenderemo in considerazione perché siccome noi sappiamo che le cose non succedono per caso, ci sono anche ovviamente degli aspetti carmici specialmente in questa epoca, diciamo dal 1986 in poi, quindi questi ultimi 40 anni o di più, ci sono degli aspetti carmici molto importanti che ti andremo a sottolineare perché ovviamente quando noi ci troviamo in determinata situazione non è comunque un caso. Soffriamo perché vorremmo che questa situazione fosse completamente diversa, ma in realtà diversa non lo è. Allora il primo aspetto è che noi non corrispondiamo più al modello che le altre persone hanno di noi. Cragno in una canalizzazione che fece con me nel penso 2002-2003 disse che per capire se una persona sta facendo veramente un'evoluzione umana e spirituale c'erano, al di là dello sviluppo della coscienza, dell'anima, della capacità di sviluppare tematiche, della capacità di essere veramente e sentirsi veramente cambiati, dicevano che c'erano dei parametri fisici molto puntuali per capire se una persona stava cambiando e sta facendo un'evoluzione. Il primo parametro disse che una persona che sta facendo un cammino spirituale e questo indipendentemente dal tipo di alimentazione che fa, ovviamente se poi un'alimentazione è sana e molto meglio, ma il primo cambiamento è che il sudore della persona cambia, ovvero sia quando voi, se siete in un cammino spirituale e cominciate a evolvere, cambia il vostro sudore, cioè non puzzate, scusate il termine, come delle capre, come magari poteva capitarci prima di fare un'evoluzione, perché le energie che lavorano dentro il nostro corpo fanno un lavoro di purificazione e quindi anche un aspetto che non è ovviamente piacevole come quello del sudare ha un odore, un profumo diverso, diventa molto più lieve, molto più mite, tant'è vero che adesso senza arrivare a entrare in odore di santità, vi ricordo a tutti quanti che per esempio chi conosce le manifestazioni di padre Pio sa che molte volte la sua manifestazione viene accompagnata da un profumo di rose, quindi questo sta a testimoniare che quando noi facciamo veramente un lavoro di trasformazione il nostro, il nostro apparato chimico cambia e un altro parametro per riconoscere che le persone facciano evoluzione era il fatto che le persone cominciano ad avere degli occhi diciamo con degli occhi diciamo chiari, in senso non è che se uno aveva gli occhi neri improvvisamente aveva gli occhi azzurri, continuava ad avere gli occhi neri ma era un colore vivo, era un colore brillante, era un colore chiaro, quindi le persone che fanno evoluzione si riconoscono fisicamente anche da questi parametri, indipendentemente dalle capacità e dell'abilità che hanno. A tutto questo c'è da aggiungere un terzo punto che è quello che stiamo trattando stasera, ovvero che quando cominciamo a fare veramente evoluzione le persone intorno a noi si diradano, quindi questo è il terzo punto. E perché succede questo? La prima, una delle ragioni ve l'ho detta, ovvero che noi non cominciamo, non andiamo più a incastonarci nell'idea che gli altri hanno di noi, di come ci conoscevano. Secondo perché c'è comunque un cambiamento vibratorio ed energetico e non è un caso che ho fatto riferimento ai parametri fisici del sudore e della chiarezza negli occhi, perché? Perché c'è una chiave energetica e vibrazionale che sale di intensità e sale di frequenza. A noi sembra quando facciamo evoluzione che non stiamo facendo niente, che non stiamo cambiando niente, che non stanno succedendo intorno a noi delle cose e questo magari poi può essere approfondimento di altri argomenti, ma in realtà capiamo che noi stiamo cambiando perché ce ne accorgiamo del fatto che abbiamo un odore molto più gradevole, i nostri occhi diventano molto più luminosi, molto più vivi e le persone che normalmente sono intorno a noi cominciano a sparire perché? Perché noi potevamo rimanere in connessione con loro quando mantenevamo lo stesso livello vibrazionale, ma evolvendo la nostra vibrazione si alza e quindi è come se una persona, faccio questo esempio che molti di voi conoscono perché è un esempio che io cito spesso della candidazione di crayon, anche se lo cito per un altro contesto, ma comunque lo prendo a prestito, è come se una persona fosse vestita di tutto punto per andare a giocare a golf e viene invitata a prendere un caffè in un circolo di persone che fanno equitazione. La persona che sta vestita per fare il golf può fermarsi, può prendere un caffè, fermarsi mezz'ora, un'ora, al massimo due ore, ma poi sente che fondamentalmente è fuori posto. Primo vistosamente perché il modo di vestirsi è diverso, secondo perché i contenuti dei discorsi che vengono fatti sono diversi e quindi la persona decide diciamo volontariamente, automaticamente di ritornare nel suo ambito. Ed è quello che succede a noi, alle persone che ci conoscono, quindi è come se noi improvvisamente fino a qualche minuto prima, fino a qualche giorno prima eravamo anche noi vestiti completamente da equitazione, poi a lei cominciamo a evolvere, cambia tutta la nostra struttura e ci mettiamo come persone che magari fanno golf e quindi ci centriamo poco col contesto che c'era prima. Un'altra situazione dell'allontanamento è dovuta dal fatto che noi incominciamo a sentire quello che magari fino a qualche tempo prima ci interessava, quindi i discorsi che le persone fanno, li cominciamo a percepire prive di senso, inutili, perché ormai in qualsiasi cosa che facciamo dobbiamo comunque metterci qualcosa che ha a che fare con la consapevolezza, con la crescita e con la coscienza. Quindi potremmo sì stare, come diceva Gino Paoli con quattro amici al bar che vogliono cambiare il mondo e fare tutta una serie di discorsi che non hanno ai noi né capo né coda, ma poi dopo un po' ci stanchiamo, perché capiamo che si sta perdendo tempo, cioè che in realtà sono altri i discorsi che ci interessano, sono altri i contenuti che ci appassionano. Quindi fondamentalmente cominciamo a essere anche noi che poniamo una distanza, perché? Perché non ci interessa più un certo tipo di ambito, un certo tipo di discorso, preferiamo magari rimanere con noi stessi, quindi stare in compagnia di noi stessi piuttosto che stare in compagnia di altre persone che a volte è peggio che stare da soli. Allora è meglio stare tra virgolette in compagnia di noi stessi e fare quello che dobbiamo fare perché vogliamo andare avanti, perché vogliamo evolvere. C'è un altro punto che ho detto prima, siccome le cose non succedono per caso, vi è anche una componente evolutiva e karmica, perché quando noi scendiamo e prendiamo un corpo fisico, dobbiamo considerare che facciamo un tipo di percorso, la nostra anima fa un tipo di percorso che ha deciso in queste incarnazioni di portare avanti un determinato tipo di livello evolutivo e le persone che sono in ascolto e che qualcuno di voi ha fatto con me, oltre che delle canzoni individuali in cui il cranio è stato molto chiaro e gli ha dato dei suggerimenti, o ha fatto anche il quadro astrologico, l'astrologia dell'essere dove comunque viene presentato il percorso dell'anima, ebbene sappiamo tutti quanti noi che abbiamo un percorso evolutivo, e questo percorso evolutivo a volte ha anche a fare con le persone che ci stanno intorno, perché magari siamo proprio noi quei, come li chiama Kryon, quei marins spirituali che devono andare in ava scoperta in un territorio per aiutare la massa delle persone che ancora sta dormendo, la massa della persona alle quali facevamo anche noi parte prima di iniziare questo discorso di evoluzione e di risveglio e abbiamo proprio il compito indirettamente, o a volte anche più direttamente, di cominciare a aiutare le persone a fare coscienza e consapevolezza. E allora molte volte le persone chiedono a Kryon, sì ma io come faccio a propormi, come faccio a dire, come faccio a fare, perché ogni volta che apro bocca su determinate argomenti, su determinate questioni, mi guardano come se fosse un marziano, quello che dicevo esattamente prima. Allora Kryon dice sempre, e riporto le sue parole, che il modo migliore è quello di trasmettere il messaggio attraverso l'esempio personale, ovvero quando noi cambiamo e miglioriamo in tutti i nostri aspetti, gli altri si accorgono di questo cambiamento. Quindi magari all'inizio ci possono guardare come dei marziani, come se fossimo degli extraterrestri, ma poi vedendo che stiamo rispetto a prima per esempio molto meglio come umore, vedendo che magari anche la nostra salute migliora, vedendo che siamo più amanti della vita, ci piace di più vivere, siamo più pieni, siamo più direi anche passionali nel vivere la vita, e allora quando le persone notano questo cambiamento saranno poi loro che ti diranno ma che cosa hai fatto per cambiare. Ed è una cosa che noi facciamo normalmente, perché se andiamo in un ristorante e mangiamo bene, poi lo consigliamo agli altri, se facciamo un percorso o un'attività che ci piace la consigliamo agli altri, perché gli altri notano un cambiamento. E allora se abbiamo questo cambiamento a livello spirituale diremo alla persona quello che stiamo facendo, il tal corso, la tale disciplina, la tale filosofia, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi dobbiamo avere anche la pazienza di essere fermi in quello che facciamo, di andare avanti costantemente mettendoci dietro le spalle i commenti degli altri. Quindi la prima domanda che io ho messo è come possiamo vivere al meglio questa dinamica. La risposta è che questa dinamica noi la possiamo vivere al meglio comunque essendo noi stessi, perché la scelta che possiamo avere è tornare indietro come eravamo prima, ma credo che nessuno di voi che mi sta ascoltando sia disposto, indipendentemente dal percorso che voi avete intrapreso, a tornare come eravate prima. Quindi molto probabilmente la scelta di tornare indietro di come eravate prima quasi nessuno la fa, ma uno può decidere di tornare come era prima e quindi riprendere il rapporto con le altre persone come era prima e rinunciare e secondo me anche morire fondamentalmente alla propria vita, alla propria esistenza, alla propria aspirazione, al proprio compito. Secondo punto per gestire questa cosa non è tornare indietro, ma è non farsi influenzare, non farsi demoralizzare più di tanto dai commenti, da quello che ci viene detto e da quello che ci viene non detto. Dobbiamo sempre comunque, visto che pensiamo e pretendiamo di avere un'evoluzione spirituale, essere noi che cerchiamo, a meno che non siamo pesantemente attaccati, provocati, insultati, ma diciamo finché le contestazioni nei nostri confronti mantengono un livello, diciamo accettabile di civiltà, noi dobbiamo semplicemente lasciarci scivolare addosso e andare avanti con il nostro percorso. Perché poi arriverà un momento in cui, se noi siamo costanti in questo, magari proprio le stesse persone che prima ci vedevano come una persona strana, ci diridevano, ci prendevano in giro, accorgendosi il nostro cambiamento, forse, non dico che è garantito, ma forse potrebbero cominciare a farsela qualche domanda. È, diciamo, inevitabile che tutto questo accada? Direi che la risposta sì, che è abbastanza inevitabile, proprio perché, come detto prima, c'è un cambiamento energetico e vibrazionale in atto. Ci sono delle conoscenze che ciascuno di noi acquisisce e quindi è abbastanza inevitabile che, cambiando noi, poi cambia tutto il contorno che noi abbiamo. Vorremmo che questo non accadesse? Assolutamente sì, nessuno di noi vorrebbe che questo accadesse, che ci fossero questi contrasti, questi misfit, con le persone che specialmente ci sono più vicini, questi misunderstanding con le persone che ci sono più vicini. Ma, anzi, vorremmo addirittura essere noi che, essere compresi, essere capiti. Io mi ricordo, per esempio, che i primi anni che io canalizzavo Kryon, io avrei voluto che tutto il mondo fosse a conoscenza di Kryon, che tutto il mondo venisse ai corsi, agli eventi, a fare canalizzazioni pubbliche, individuali, perché, secondo me, visto che sono ancora qui dopo vent'anni a parlarne e spero di andare avanti perlomeno per altri venti, il messaggio di Kryon è un messaggio importante, che vale la pena di continuare continuamente, di portarlo avanti e di diffonderlo. Però mi sono reso conto nel tempo che quello che io potevo fare era proporre, non potevo assolutamente costringere nessuno, non potevo assolutamente e in nessun modo farmi ascoltare da chi non era disposto ad ascoltarmi. E quindi ho dovuto aspettare con pazienza che certe situazioni cambiassero e il cambiamento delle situazioni era più legato, ovviamente, al cambiamento delle persone, non tanto al cambiamento mio, che mi adeguavo, perché, come ho detto prima, quando una persona prende un cammino è difficile tornare indietro. Come possiamo gestire questa situazione, come la possiamo gestire al meglio? Cercando di avere un atteggiamento possibilmente conciliante. Ovviamente il tutto deve sempre rimanere dentro a dei termini di civiltà, dentro a dei termini di mutuo rispetto, anche perché noi in questo momento abbiamo, tra virgolette, una fortuna, rispetto, per esempio, a vent'anni fa. O rispetto ancora prima, ovvero la fortuna è che certe tematiche, l'evoluzione, la spiritualità, sono a questo punto molto più diffuse rispetto a prima. Noi siamo qui nel gruppo di Gaetano, di Gaetano Vivo, che è un Master Reiki, infatti questo Bridge of Lights, ed è un gruppo ispirato e fondato da Gaetano che è un Master Reiki. Quindi prendo quello che fa Gaetano, quello che magari molti di voi fanno anche il Reiki. Il Reiki è una cosa ormai, non solo in tutto il mondo, ma anche in Italia, conosciuta praticamente da tutti, anche da chi non lo pratica, perlomeno ha sentito parlare del Reiki. vent'anni fa, venticinque anni fa, se uno non abitava in una grande città tipo Milano, Roma, Torino, Napoli, eccetera, eccetera, e stava in realtà molto più piccolo, il Reiki si faceva fatica a sapere cos'era. Ma questo vale per lo yoga, vale per l'agopuntura, vale per tantissime tematiche. Quindi la fortuna che noi adesso abbiamo rispetto a vent'anni fa è che perlomeno a livello di cultura siamo più facilitati, siamo molto più facilitati rispetto a quando quelli della mia generazione hanno iniziato ad aprire queste tematiche, hanno iniziato a portare avanti queste cose, perché per esempio io ho vent'anni che lavoro con Cryon, ma ne ho almeno altri venti in cui tenevo corsi, seminari, eccetera, eccetera. Quindi sono quasi 40 anni che porto avanti queste tematiche legate all'evoluzione e vi devo assolutamente dire che in 40 anni di cose ne sono cambiate. Per cui io penso che il futuro che ci aspetta sarà se noi riusciamo a mantenere questo atteggiamento di tranquillità, di serenità, lasciandoci scivolare dosso le critiche, ma mantenendo fermo il nostro punto, io credo che il futuro che ci possa aspettare da qui a qualche anno è che in realtà quando cominceremo a fare evoluzione non avremmo più bisogno di fare questa cernita, no? Cioè, ma soprattutto magari le persone che cominciano a perlomeno a livello culturale, a livello di conoscenza o di informazioni, a conoscere determinate tematiche saranno forse più propense a interagire con noi. E allora il nostro compito visto che i tempi stanno cambiando già da 20 anni stanno cambiando e continuano a cambiare è quello ciascuno di noi di farsi trovare pronto quando anche le persone intorno a noi cominciano a cambiare a essere noi i primi che aiutano a informare a fare cultura. Una delle cose che Craion ha detto un po' di tempo fa in una delle ultime canalizzazioni credo forse di un anno fa anche meno era stata data dal fatto che noi non dobbiamo più nessuno vergognarci di quello che facciamo non dobbiamo più giustificarci con nessuno del cammino che abbiamo intrapreso perché è ormai una cosa accettata è una cosa che ha a che fare con la cultura a parte che anche se non fosse stata accettata non avremmo comunque dovuto vergognarci in nessun caso ovviamente ma ancor meno adesso perché adesso c'è la possibilità perlomeno a livello di conoscenza a livello di cultura di di essere almeno intuitivamente più capiti più compresi quindi noi dobbiamo essere pronti quando questo varco si apre si sta sempre più aprendo essere noi che facciamo cultura perché l'evoluzione non passa solamente attraverso l'energia le meditazioni gli esercizi che facciamo in questo caso io siccome lavoro con Crayon parlo dei seminari di Crayon ognuno ovviamente propone come evoluzione quello che fa ma quello che noi dobbiamo fare è creare cultura cioè fare degli eventi che possono essere dei congressi dei convegni non solo esclusivamente per i pochi intimi pochi o tanti che sono ma fare degli eventi secondo me è quello il futuro dove dobbiamo andare dove si coinvolgono sempre persone e più ampi strati di popolazione quindi non proporre tanto o solo dei congressi che hanno a che fare con la tematica che va benissimo per tutte le persone che sono appassionate di quella tematica ma fare diciamo della diffusione degli incontri dei congressi dove portare avanti la cultura dell'evoluzione del cambiamento e dove ovviamente gli operatori che parlano o che dovrebbero parlare non è che devono usare diciamo l'ora o l'ora e mezza che è stata a disposizione per farsi lo spot pubblicitario di quello che fanno loro perché questo non aiuta la cultura ma ci bisognerebbe che ci sia una linea più generale per diffondere proprio la cultura e quindi trovare una tematica o delle tematiche in cui tutti gli operatori sono uniti quindi trovare ciò che unisce invece che ciò che divide per diciamo fare cultura e questo è il futuro prossimo venturo che ci aspetta per cui teniamo duro tenete duro e perché questo è l'ulteriore cambiamento che ci aspetta ed è importante perché diciamo noi siamo il presente e il futuro dell'umanità quindi sta a noi e non parlo ovviamente solamente di noi in quanto operatori ma parlo voi adesso siete circa una settantina di persone l'ascolto parlo a ciascuno di voi nel proprio piccolo o nel proprio grande di cominciare a diffondere cultura diffondere cultura per esempio significa rispetto a le persone che ci sono vicine a familiari parenti gli amici eccetera eccetera invece di parlare tanto della tecnica che voi state facendo andate per esempio su internet a trovare i benefici magari possibilmente anche dimostrandoli documentandoli di quello che voi state facendo perché è così che si che si coinvolgono le persone persone tutti quanti noi siamo guidati dalla dinamica del benessere ogni essere di luce ha dentro di sé una tendenza naturale all'evoluzione poi c'è uno che ci metterà 50 incarnazioni c'è un altro che ce ne metterà tre ma tutti quanti siamo guidati dalla stessa dinamica e allora nel momento in cui noi sappiamo che la persona che abbiamo vicino che abbiamo accanto il figlio fratello marito moglie suocera amici eccetera eccetera anche loro cercano comunque un miglioramento una dinamica ecco che per esempio nel momento in cui si crea l'opportunità e l'occasione per parlare di quello che stiamo facendo ve lo consiglio proprio caldamente non state da fare una testa così con la tecnica perché siccome non l'hanno mai fatto sì magari vi ascoltano per cortesia ma poi mentalmente vi mollano non vi ascoltano più andate invece direttamente su quelli che sono risultati pratici su quello che le persone possono ottenere facendo una respirazione facendo un esercizio di yoga lavorando con reiki ascoltando un messaggio di crayon tutto quello che volete voi quindi andate non tanto sulla tecnica sull'aspetto tecnico ma sui benefici sul beneficio che le persone possono avere da un determinato tipo di percorso ed è così che si fa cultura cioè la cultura dell'evoluzione della spiritualità non la si fa tanto spiegando le tecniche ma la si fa diffondendo i benefici che le persone possono ottenere a tutto questo bene allora credo di avere abbastanza così credo detto tutto quello che avevo in mente di dirvi lascio a voi adesso apro diciamo il file dei commenti comincerò a leggere i vostri commenti quindi magari a commentare i vostri commenti se avete delle domande dei dubbi delle cose sono qui a rispondervi più che molto molto volentieri io ma soprattutto crayon quindi intanto comincio a vedere gli ultimi saluti ciao sorenella ciao sandra ciao orsola buonasera a tutti quanti ok vedo se ci sono dei delle domande delle condivisioni un po' alla volta ciao serena ciao giulia ciao daniela da livorno ciao laura franzelli la mia voce dice io ne sono talmente contenta che mi sento prontissimo a divulgare ovviamente appena ne sarò pienamente padrona allora ti dirò questo che si è importante esserne padroni ma con la storia di essere padroni cara mia è come dire voglio cercare di fare qualcosa quando sono perfetto siccome la perfezione è un processo in movimento non si arriverà mai alla perfezione perché la perfezione è una idea statica mentre per esempio la perfezione è qualcosa di dinamico nel libro illusioni di Richard Bach che è una bellissima favola ma neanche tanto favola che parla dell'incontro dell'autore del libro Richard Bach lo stesso del che abbiamo Jonathan Livingston con un maestro spirituale che si chiama Donald Kimoda Donald per far spiegare qual era cos'è lo stato diciamo ideale dice che la perfezione è qualcosa che è sempre perfetto ma nello stesso tempo in perenne movimento perenne cambiamento per cui non dobbiamo pensare di raggiungere un livello di perfezione ma parleremo faremo cultura di quello che noi conosceremo e da lì diciamo parleremo le cose che conosciamo quelle che ancora non conosciamo ovviamente non le diremo ma non aspettiamo di essere perfetti o di essere pronti per cominciare a divulgare mi raccomando Matilde dare approfondire dare approfondire conoscenza bisogna approfondire la conoscenza bisogna fare cultura ceci dice la stessa cosa capita a me uguale sono che lei mi cambia discorso ma fa sapientina su tutto io adesso mi annoiano i suoi discorsi non ho capito molto bene il tuo intervento quindi ti ribadisco la cosa che ho detto nell'ultima parte la cosa importante è fare cultura fare cultura sui benefici perché se cominciamo a fare braccio di ferro ovvero la mia teoria migliore della tua creiamo distacco creiamo diversità dobbiamo trovare che cosa unisce siccome io in questa diretta di questa sera vi ho detto che quello che unisce tutti gli esseri umani è la dinamica del benessere e quindi è molto più facile che io possa coinvolgere una persona spiegandole facendole leggere documentando dei benefici e per esempio se voglio proporre un trattamento reiki quando la persona si rende conto dei benefici che può avere sarà molto più disposta a provarlo e magari da lì cominciare un percorso che la porterà a fare reiki anche lei o piuttosto che è un'altra cosa ma è così è Angela Ventura dice hai detto vivere al meglio essendo noi stessi presuppone conoscere noi stessi come puoi conoscere quello che veramente vuoi quello che dovresti fare io in realtà non credo di avere detto vivere al meglio ma non me la voglio cavare cara Angela sul fatto di quello che ho detto di quello che non ho detto io ti dico che nel momento in cui tu hai un'intenzione e forse tu sei una delle prime volte che mi segui ma in realtà io ho fatto più puntate su questo punto e dire che per essere e conoscere veramente noi stessi quello che noi dobbiamo fare è muovere l'intenzione perché vedi se io domani non so quello che voglio fare non mi conosco significa che fondamentalmente sono una banderuola e non ho una direzione interiore quindi qualsiasi vento arrivi mi può smuovere e mi può far cambiare ma se io ho un'intenzione che porta avanti in modo costante in modo deciso e fermo è chiaro che il mio domani sarà abbastanza simile a quello che il mio oggi a quello che il mio ieri anzi sarà meglio perché intanto i risultati che mi sono prefissato cominceranno ad arrivare sempre di più e quindi credo che sia questo fondamentalmente Angela cioè che il conoscere se stessi significa agire agire quella che è la nostra intenzione perché poi il fatto di conoscerci filosoficamente o mentalmente abbiamo tanti tipi di filosofie abbiamo tanti tipi di definizioni che vanno bene perché aiutano perlomeno a introdurre il discorso ma la vera conoscenza non è basata sulla filosofia è basata quando tu hai assimilato un determinato principio l'hai fatto tuo e agisci secondo quel principio lì e lì la conoscenza che hai di te stesso non è intanto che uno sviluppo armonico nell'approfondire quel principio non ci potrà essere un cambiamento drastico perché allora vuol dire che non hai sufficientemente approfondito l'intenzione che vuoi portare avanti grazie comunque perché è un commento molto interessato oh maurizio grazie maurizio totti ciao bellissimo come stai oh l'altra volta ho fatto una diretta del cui ora ho iniziata con con un commento che ho fatto sulla tua su una delle tue foto di venezia quindi ti ho tirato in causa amorevolmente per il commento che ho fatto piacerissimo che sei qua Anna dice in famiglia mi sono trovata quasi a una chiusura con due fratelli ma mi rendo conto che ho dovuto allontanarmi da questo argomento e ci sono stata male adesso mando solamente luce beh come ho detto io non so qual è la dinamica che hai utilizzato è anche vero quando io dicevo che quello che succede ha comunque un fondamento karmico che noi veniamo mandati in missione ad accendere la luce magari a persone che in quel momento non sono pronti quindi bisogna considerare Anna Maria e anche il fatto che tu mandi comunque luce è una cosa molto saggia che quando noi facciamo qualcosa animati da un'intenzione positiva è come se noi stessimo facendo un bonifico energetico nel conto energetico delle altre persone in questo caso i tuoi fratelli il che non vuol dire che loro riscuoteranno subito questo credito che tu gli mandi perché magari quando qualcuno se facciamo un esempio con i soldi ti fa un bonifico a te non è detto che tu quei soldi li prenda subito dalla banca potresti lasciarli lì un po' di tempo o prenderli più avanti quando noi con l'intenzione facciamo qualcosa per qualcuno può darsi che l'energia che gli mandiamo la persona non va persa non va persa si accumula nel suo conto corrente energetico mi piace chiamarlo così e magari la persona lo prende dopo 5-6 mesi un anno due anni magari chissà anche nella prossima incarnazione ripeto comunque sia che partendo e mettendo il taglio la prospettiva sul discorso dei benefici la cosa diventa più ragionevole grazie Anna Maria lo dimostro a tutti la possibilità di divorzio attraverso la mia guarigione lo dimostrerò con un'evidenza proprio come tu dici bravissima bravissima la mia voce fai benissimo a fare così sono molto molto contento del tuo commento ciao Valeria grazie a te Gabriele dice volevo capire se con la meditazione si aiutano le persone allora Gabriella si possono aiutare le persone quando tu metti queste persone al centro della loro meditazione come dicevo prima con la nostra amica Anna Maria cioè quando tu mandi luce mandi energia sicuramente l'aiuto a queste persone arriva poi quando queste persone riscuoteranno quello che noi gli inviamo questo non è ad altro sapere è chiaro che noi saremo felici no faccio una cosa oggi domani già ho riscontro molte volte non funziona così dobbiamo sapere che quello che noi facciamo non va mai perso quindi agire per il bene agire con intenzione positiva è sempre comunque la cosa migliore che succede senza avere l'aspettativa e questo è un altro tema sul quale magari meriterebbe un'altra diretta discorso dell'aspettativa senza avere l'aspettativa che le cose succedano subito ma l'aspettativa ce l'abbiamo perché siamo umani e quindi la nostra parte emotiva vorrebbe subito essere frizzante fare le bollicine invece purtroppo per fortuna non è non è così comunque Gabriella continua pure a mandare luce alle persone Stefania diciamo che sono interessanti le critiche costruttive ma spesso sono fini a se stesse allora io innanzitutto sono una persona che odia il termine critica costruttiva perché in una critica secondo me non c'è niente di costruttivo è interessante un apporto un punto di vista costruttivo ma a quel punto non è una critica ma è un'interazione quindi sono d'accordo con te perché quando parliamo di critiche sono fini a se stesse quando invece c'è veramente la realtà la volontà di ascoltare e la volontà dell'ascolto la si apre con sottolineare i benefici allora le cose possono cambiare ciao Sabina Sandra ciao nella prossima incarnazione allora dovremo incontrare più persone evolute spiritualmente dipende dal dal contesto se tu nella prossima incarnazione intendi su questo pianeta come ho già detto molte volte con Cryon questo pianeta è destinato considera che noi stiamo vedendo l'inizio di un'epoca che durerà duemila anni ma questo pianeta è destinato ed è destinato a ospitare persone che hanno un'evoluzione spirituale molto più alta noi stessi se desideriamo potremmo tornare a incarnarci qui e se abbiamo già fatto tanto lavoro in questa incarnazione la prossima ce lo ritroviamo e tutto quello che sta succedendo in questo momento parlo di tutta la storia del covid senza entrare ovviamente nel merito molti di voi sanno che è una partita evolutiva e spirituale che stiamo giocando che è molto più importante che qui c'è molto di più in ballo che il fatto di avere una pandemia di avere o non avere un vaccino perché questo è uno dei nodi che dobbiamo sciogliere per far sì che l'evoluzione delle persone che ne potremo incontrare sia in queste incarnazioni che nelle prossime possa veramente concretizzarsi a livello evolutivo Domenico ciao prima la gente scappava per la puzza adesso scappa per la mia evoluzione eh bene io preferisco essere un riferimento e un sostegno per gli altri che sicuramente in giro c'è molto bisogno beh vedi Domenico l'unico modo per essere un sostegno per gli altri è quello che tu debba essere un sostegno per te stesso noi dobbiamo considerare che riusciamo ad aiutare gli altri se noi ci mettiamo un po' a essere come il sole cioè il sole splende ed è se stesso nello splendore che nel proprio splendore e il sole non si cura se il proprio splendore poi aiuta come in questo in questo caso il nostro pianeta l'evoluzione e propagarsi della vita lui è se stesso cosciente di se stesso autoconsapevole del suo calore della sua brillantezza e non gli interessa praticamente se poi dal calore che emana c'è una vita anche perché poi il sole oltretutto fa un'altra cosa che è importante cioè non è discriminatorio cioè dice io splendo e posso diciamo raggiungere sia la persona che è un santo che è un illuminato sia uno che è un serial killer e un delinquente quindi essere se stessi significa essere un sole centrale che irradia energia per se stessi e poi se da questa energia gli altri ne beneficiano tanto meglio e coloro che ne beneficiano non devono essere diciamo soggetti a un giudizio sì tu ne puoi beneficiare perché sei una brava persona tu no perché sei un delinquente quando tu sei te stesso brilli e non sai per esempio in un aeroporto dove tu passi dove la tua energia può impazzare tutto un ambiente se la tua energia se il tuo modo di essere arriva a uno che è un delinquente o a uno che è un santo quindi direi che quello che tu puoi fare è essere un riferimento per te stesso ed essendo un riferimento per te stesso puoi puoi aiutare gli altri facendo cultura e soprattutto diciamo rispondendo quando poi le persone vedendo il tuo esempio si interessano a quello che fai e vogliono cambiare Daniela buonasera alcune persone si sono allontanate da me proprio notando il cambiamento altre hanno fatto domande sono lasciate contagiare da mio entusiasmo all'entraprendere il percorso e spesso condivid condivid diamo poi ci sono persone con le quali mi rapporto in quotidiano qui provo a lanciare esche nella speranza che abbocchi esattamente Daniela hai fatto una sintesi perfetta di quello che è o quello che dovrebbe essere la giusta calibrazione in tutto questo molto bene grazie a te Angela buonasera Doria Ilaria buonasera dice anche tanti parenti si sono allontanati senza alcun motivo no il motivo non è che non esiste il motivo è quello che ho spiegato in questa diretta buonasera Michele Lucia buonasera ciao Valentina ma quanti siete che bello Maria Concetta buonasera Patrizia ci sono persone che è impossibile aiutare in un dato momento io butto dei piccoli semi e con il sorriso ma ho imparato che tu non che non puoi se l'altro non vuole e questo anche motivo per cui ti perdi nel cammino della vita lavoro su di sé invece sempre sì esattamente così perché i tempi e tu hai introdotto un altro argomento che è importante cioè che i ritmi e i tempi evolutivi non sono uguali per tutti quanti devo dirti che io sono abbastanza orgoglioso del fatto che Crayon credo al mondo sia stato l'unico il primo parlando di evoluzione spirituale a introdurre l'importanza del ritmo cioè prima di lui nessuno aveva mai parlato anche adesso nessuno quasi mai ne parla se non che le persone dicono sì la cosa le verrà molto giusto quando è il momento eccetera eccetera ma sono citazioni blande Crayon ha proprio fatto degli approfondimenti e ha detto che addirittura capire quando è il momento di fare qualcosa significa esercitare la saggezza quando è il momento di parlare di non parlare di dire di non dire di agire quindi la calibrazione della propria energia del proprio modo di fare il proprio modo di essere è proprio diciamo la saggezza e quindi tu Patrizia mi sembra che la stai che la stai mettendo in alto perché quando capisci che è impossibile aiutare qualcuno giustamente lo lasci che faccia il suo percorso che faccia la sua strada e che segue i suoi tempi molto bene Bruna Bruna la sfinge in casa mia ci incontriamo ogni 15 giorni facciamo meditazioni e poi condividiamo con semplicità e questo ci aiuta a crescere ne parliamo con chi conosciamo e si crea qualità parlando delle nostre esperienze le persone li ringraziano perché hanno una visione di alta realtà sì quello allora se io avessi letto questo post tipo 4-5 anni fa avrei detto che sei stato completamente d'accordo e non avrei avuto niente da aggiungere ma siccome anch'io come persone e come canale evolvo grazie a Dio ti dico che va benissimo quello che stai facendo ma se voi riuscite nel vostro gruppo a non tanto o non solo raccontare le vostre esperienze come una cronologia di cose che state facendo ma di sottolineare di calcare i benefici vedrete che questo sarà ancora molto più impattante molto più dirompente e unirà ancora il vostro gruppo l'area monnalia dice io credo che nemmeno noi siamo perfetti la perfezione è un concetto che è in continuo un cambiamento in continuo mutamento la strada è lunga dipende può anche essere molto corta dipende molto dall'intenzione e dalla convinzione che uno ha di se stesso anche perché la strada è lunga siamo un cammino non siamo tutti perfetti mi sembrano sinceramente semplicemente delle diciamo dell'esortazione a rimanere nella frustrazione a rimanere nella paura invece io voglio che sempre di più voi andate verso la curiosità e verso il desiderio perché la curiosità e il desiderio che sono poi la benzina dell'intelligenza emozionale vi aiutano veramente ad agire nel modo più corretto mi raccomando sì Antonella so che sei tu ti conosco benissimo grazie ciao Ancilla buonasera ciao Albina per Luigi negli ultimi mesi sono molto più solitario per così dire ma soltanto perché non fosse la voglia di perdere tempo per convincere gli altri delle idee e perdere tempo a discorsi inutili allora il discorso di quello che tu stai dicendo è vero poi ognuno si rapporta come meglio desidera io non sto facendo una diretta dicendo che adesso da domani tutti quanti dobbiamo cominciare a fare diffusione della cultura però siccome questa è stata una tematica che io ho sollevato e neanche io mi aspettavo che ci fosse così tanta gente che la condivideva ho fatto questa diretta per dire fondamentalmente due cose primo per darvi dei suggerimenti di come gestire al meglio questa cosa secondo per dire quello che ci aspetta o qual è a livello del medio lungo periodo quali sono i veri cambiamenti il cambiamento è proprio la diffusione della cultura come facciamo a diffondere cultura non tanto fissandoci sulle tecniche ma parlando dei benefici parlando dei benefici che ciascuno di voi con il proprio cammino fa e ottiene e creare proprio dei momenti di cultura che non sono aperti solamente ai diciamo ai soliti noti o ai soliti ignoti cioè ora che tutto il movimento non solo in Italia ma anche all'estero esca dal recinto esca dallo steccato e apre le porte a fare incontri con con la popolazione con la gente in genere per per parlare di questo come cultura e di portare dei benefici che tutto questo offre poi nessuno è obbligato a fare niente ovviamente però mi sembrava giusto mi sembra giusto darvi una visione anche in prospettiva Jonathan perché alcuni hanno la capacità di canalizzare ed accedere ad alcune informazioni cioè nonostante quando si cerca nel cielo si ha voglia di incontrare fisicamente i fratelli e essi non si mostrano caro Jonathan proprio perché questa tua diciamo desiderio blocca il fatto che la cosa accada su questo ho fatto altre dirette che magari ti inviterai a vedere proprio sul discorso di come un'aspettativa blocca di fatto l'utilizzo dell'energia se poi ti riferisci a me come canale io e gli altri due canali di crime infatti non è un caso che siamo praticamente tre al mondo adesso due perché uno ha smesso da qualche anno cioè la storia che abbiamo in comune noi è che nessuno di noi si è alzato una mattina e ha detto io voglio canalizzare crime tutti quanti siamo stati scelti da crime quindi e nessuno di noi tre e io per primo aveva per anticamera nel cervello di fare quello che sto facendo quindi non è una cosa che è nelle tue mani io se tu hai questo desiderio ti direi caldamente di lasciarlo perdere di desiderare qualcos'altro che può essere più sotto la tua sotto il tuo controllo sotto la tua possibilità poi se quando domani anche tu canalizzerai io direi che se vuoi avere una minima chance per farlo è che questa minima chance è proprio di mollare l'aspettativa di poterlo fare te lo posso mettere per iscritto dove vuoi Fiora Lella buonasera grazie Angelo grazie a te Angela ci sono stati aspetti carmici del 86 molto importanti che vuoi dire non le vorrei dire ma siccome siamo praticamente alle 20 e tra un po' devo chiudere non ho il tempo fisico di poterlo dire Paola mi trovo perfettamente con tutto ciò che hai detto Angelo da ragazza mia madre assisteva molto preoccupata a mia ricerca poi in cambiamenti positiva si è ricreduta e quindi è cambiata molto bene grazie a te Paola di nuovo ho da nutrirmi ancora tanto rifiuto spesso a uscire con amici perché quando lo faccio non mi sento a mio agio finisco sempre con l'accettare discorsi stupidi candendo spesso anche in frivolezze ognuno fa quello che si sente bene grazie a te per la risposta c'ha stracali comincia a far fatica ad interagire con persone non sopporto più discorsi superficiali più secolezzi o discorsi basati solo per parlare allora faccio questo tipo rispondo a te poi alle altre persone che non ho risposto risponderò magari nei commenti sotto la diretta o se volete ulteriori approfondimenti un contatto con crayon potete anche scrivermi in messenger per ulteriori approfondimenti sarò molto molto felice di di risponderli chiudo con quest'ultima cosa che è stata detta se il discorso del far fatica a vivere con pettegolezzi proprio perché quello che succede è che è che l'umanità e questo crayon ce l'aveva detto dal 2001 2002 per cui se qualcuno vuole veramente leggersi e avere delle informazioni sull'evoluzione sappia che in italiano ci sono ben quattro libri pubblicati da me con le canalizzazioni di crayon e proprio nel primo libro che feci nel 2003 2004 che si chiama la sfida dell'impostibile una delle prime canalizzazioni disse proprio che arriva un momento in cui l'umanità si sarebbe scissa in due parti da una parte persone che facciano evoluzione e dall'altra persone che avrebbero continuato a non farla e dopo 18 anni siamo proprio in questa situazione per cui capisco che non ci sia la voglia di stare con certe persone ma tra persone superficiali o totalmente con le quali non si può comunicarci c'è anche una gran parte di persone che potenzialmente invece è pronta e sono quelle le persone magari da coinvolgere per aiutarli a fare cultura bene allora io grazie a voi grazie a te Sabrina grazie a tutti quanti i vostri commenti li guarderò li guarderò con calma se volete scrivermi li ascolto approfitto per dirvi per farvi un annuncio da settembre il paninsesto di Bridge of Light cambia perché ci sono molti operatori per cui lo spazio che ci viene dedicato risulterà molto ristretto e quindi vi devo annunciare che io sarò in onda tutti i martedì alle 19 in lingua spagnola ma come molti voi sanno è una diretta in spagnola con molto italiano dentro perché comunque di fatto le persone che seguono i diretti spagnoli sono in gran parte italiane quindi sarà una diretta in spagnolo ma sarà facilmente comprensibile sia per quanto riguarda le parole di spagnolo sia poi alcuni periodi che io traduco quindi seguitemi una volta a settimana al martedì e invece sarò in italiano la prossima volta il 14 settembre sempre di lunedì alle 20 e 30 e da settembre in poi andrò in onda una volta al mese sempre alle 20 e 30 vi comunicherò di volta in volta agli orari a fronte di questo però io ho deciso quindi di cambiare un po' la mia strategia di comunicazione ovvero siccome per quanto riguarda le dirette in italiano andrò in onda una volta al mese è chiaro che in quella diretta lascerò molto più spazio alle domande di Cryon Rispondi quindi comincerò qualche giorno prima a dirvi di prepararvi le domande da fare a Cryon e sarà tutta una diretta esclusivamente di domande che voi fate a Cryon a quale Cryon Rispondi quindi non ci sarà i 20 minuti la mezz'ora dell'argomento che scelgo perché voglio che quell'ora sia completamente a vostra disposizione per domande che voi volete fare a Cryon e invece che cosa farò farò comunque dei video che non saranno delle dirette ma saranno delle differite una volta alla settimana dove tratterò degli argomenti magari saranno dei video che dureranno un quarto d'ora 20 minuti e magari mi piacerebbe che una volta che io metto questi video voi poi li commentiate quindi cominciamo a fare un dibattito non ci sarà più la diretta ma ci sarà comunque molto presente in differita considerate anche che qualche giorno prima della differita che adesso non so esattamente in quale giorno lo farò comincerò comunque qualche giorno prima a fare dei post per per annunciare l'argomento con il quale vorrò parlare con voi in queste differite in modo da creare poi anche un rapporto perché la decisione appunto di Bridge of Light è stata questa e anche giusto perché essendo tanti operatori è importante dare voce e a dare le persone di questo gruppo che non dimentichiamo anche un gruppo internazionale più di 14.000 persone quindi dare a tutti quanti la possibilità di ascoltare gli argomenti che loro interessano da parte mia quello che posso fare quindi è preso atto che c'è questo cambiamento cambio io la mia strategia di comunicazione con voi poi per le persone che mi seguono anche sul mio gruppo di Crayon anche da lì cominceremo essendo un gruppo molto più ristretto comunque anche lì a fare a fare delle dirette per cui niente in ogni caso continuerete a vedermi a sentirvi continuerò a imperversare perché non ho nessuna intenzione di mollarvi nella vostra evoluzione quindi sono presente nel supportarvi finché voi supportate e mi sopportate grazie arrivederci ci vediamo domani sera alle ore 19 e poi ci vediamo il giorno 14 alle 20 e 30 un arcobanone di luce a tutti e buona serata ciao grazie a tutti